Oh! Devo preparare una frittata! Ho una torta per mio figlio! Lui sta arrivando! Figlio mio, dove sei? Ma anche la mammina! Oh, eccoti qua! Ti ho baciato all'ascellina! Questa ascellina che ti ritrovi da quando eri neonato! Chi è questa qui? La tua stupida fidanzata! Tu sei soltanto della mamma! Vero, piccolo Luì? Ehm, Sofì, che stai combinando? Oh, succherino, sei qui! Vieni dalla mammina! Mammina! Aspetta, 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 aspetta! Ma tu non stai facendo i compiti! Oh! 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 Non è subito a studiare! Ma è subito a studiare! Tu non sei mia mamma! Oh, sì? Non sono tua mamma? No, mi sembra di no, almeno! Quante dita hai tu? E che c'entrano ora le dita? Ne ho cinque! Quando, quante ne ho io? Cinque! E questo non vuol dire che sei mia mamma! Che colore hai gli occhi? Marroni! I miei ti sembrano azzurri o verdi? Ugualmente non significa che sei mia mamma per questo! Ma che stai combinando qua con la sottola e la spatola? Sto preparando una torta per mio figlio! Ma qui non vedo nulla! Fatti a fare i tuoi! Ragazzi, mi sa che oggi Sofì è completamente pazza! Mi sa che oggi Sofì è completamente pazza! Tu mi stai facendo veramente innervosire! Sai cosa faccio? Cosa fai? Io ti prendo a colpi di palettate! No, no, no! Aiuto, aiuto, aiuto! Ma è pazzita! Aiuto! Che sta facendo? Ah! Aiuto, aiuto! Aiuto! Non puoi entrare, non puoi entrare! Ma l'avete vista? Ma sì, ti ho paura che Sofì oggi si sia trasformata nella mamma pazza! Aiuto! Calma, è sangue, prendo! Sei qui, zuccherino? Oh, sì, mamma! Devo cucinare un dolce! Ah, ok! Allora, guarda, io prendo questo intanto! E tu cucina pure tutto quello che vuoi! E fai, fai con comodo! Ciao! Ciao! Sono più che sicuro che Sofì è sotto l'incantesimo dello slime! Di nuovo! Oggi si crede la mamma pazza! È l'unico modo per farla ritornare Sofì e trovando tutti gli ingredienti dello slime che avrà nascosto! Già ho trovato i primi due, la ciotola e la spatola! Questi sono fondamentali! Oh, cavolo, il trucco! Dolcezza! Gioca un po' con i nuovi 3D cambialook! Ah, i 3D cambialook dei Meco... Gioca! Vabbè, fai già lì qui sopra, ora ci gioco! Scegli uno! Eh, aspetta, guarda, scelgo... Scelgo io per te! Questo è di mamma e questo è di figlio! Prima vediamo cosa ha trovato mamma! L'opuscolino con tante curiosità! Chi hai trovato? Oh, no! Pensavo di aver trovato mio figlio! Ma è Sofì! No, no, no! Questa qui è Sofì col vestito di Kira E uno tra i personaggi più belli della nuova collezione di Me contro te 3D cambia look E quello di mamma No Sofì Sì ma le miniature 3D i portachiavi non le hanno fatte ancora di mamma Le hanno fatte di lui e di Sofì Meglio che le mie orecchie non sentano vado di là Ciao mamma Questa è la nuova serie di Me contro te 3D cambia look Con tre nuove collezioni di vestiti Vestiti snack, animali dell'oceano E una serie sui cuccioli Con i vestiti speciali di Kira e Ray Guardate qui quanto sono belli Sono davvero tantissimi E li trovate in edicola Quindi se li volete prendere anche voi Correte subito in edicola Ma adesso mettiamoli da parte Perché è il momento di trovare gli altri ingredienti nascosti dello slime Dove possono essere? Diamo subito un'occhiata qui Ciao E' l'ora della merendina L'ioghurt per il mio bambino Merendina? No guarda io sono sazio Ho appena finito di mangiare E sto proprio scoppiando Non mi va la merendina Ma tu devi crescere Devi diventare un ometto Siediti Che la mammina adesso ti imbocca La mammina adesso cosa fa? Ti imbocca Aiuto ragazzi sono veramente nei guai Penso che fra tutti i personaggi Questo sia il peggior in cui si è mai trasformata Bravino bravino E' buonissimo Però adesso basta Ego mangialo tu Brava Cerealino? Cerealino? No 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 ma il cucchiaino che hai usato tu Siamo ammettino Cerealino? No bobbacca Cogurtino E' piccolino E' piccolino piccolino Ragazzi guardate cosa ho visto Nella vestaglia di Sofì Guardate cosa c'è Quella è la colla Ok Tutto 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 Ancora un altro Guarda che ancora ce n'è molto Eh si è buonissimo Ancora 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 yogurt Ancora yogurt Ma mamma mamma Ma senti questa puzza di bruciato No non sento niente No 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 ma io lo sento Puzza di bruciato Secondo me in cucina si sta bruciando la torta Vado subito a controllare Mangialo tu finisci Vabbè vabbè lasciala qua Ragazzi è andata È andata è la mia occasione Abbiamo la colla Abbiamo la ciotola Abbiamo la spatola Mettiamo tutto qui Adesso ci servono altri due ingredienti Il liquido per lenti E il bicarbonato Ma dove cavolo si possono trovare? Qui non c'è nulla Qui non vedo niente Hai caffè? Ah no no grazie Non mi va il caffè E forse neanche tu ne dovresti prendere caffè Perché già sei un po' Come dire Perché io Non sono nervosa No 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 per niente Sei normale Normalissima Mi dormi in cucina Bene ho di nuovo qualche minuto per trovare gli ingredienti Forse lì qua c'è qualcosa Oh sì Eccolo Il bicarbonato Ma sta cantando Non silenzio Presso a poco resterà In silenzio Esploderà L'amore Già si spegne Si accende Non c'è Adesso Prende il cucchiaio di legno E colpisco lui Fortissimo Cosa ha detto Prende il cucchiaio di legno Colpisco lui fortissimo Mamma mia Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Ok Qui c'è il bicarbonato Andiamo qua Portiamo tutto questo al sicuro Oh no È arrivata Lui 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 sei Lui Lui Non ha mangiato Lui Lui Torna subito Non è qui Grazie Ma come punizione Ma non puoi Eh vabbè Niente telefono Non ti preoccupare Per un mese Ok Ragioniamo Mi manca soltanto Un ingrediente Io ho Il bicarbonato La spatola La colla La ciotola E una chiave E una chiave Che me ne faccio di una chiave Non lo so Dobbiamo pensare Dove può aver nascosto Il liquido per lenti Di sicuro Non qui nella camera da letto Devo provare ad uscire Mamma Non la vedo Forse Via libera Ehi C'è nessuno E se avrai bisogno Eccola Se ti correrò da te In un secondo Devo rifare E se avrai bisogno Se ti correrò da te In un secondo Ho capito Sta facendo un tiktok Giuro che è la mamma pazza Più strana del mondo Effettivamente È mamma pazza Quante mamme pazze ci sono Approfitto di questo momento Che è distratta Per cercare il liquido per lenti Dovrei essere qui intorno E questa cos'è? Non l'avevo mai vista qui Sbaglio sempre Sbaglio sempre Sbaglio sempre Lo devo spaccare questa chitarra Non dobbiamo romperla la chitarra Ok Dove ti eri cacciato brutto mostro No 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 Scherzo Scherzo ma io non posso vivere così con Sofì Che da un giorno all'altro si trasforma Ho detto una pazza scatenata E ho detto Oh Passa 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 Devo controllare qui dentro Che devi controllare? È una caccia al tesoro? No niente Non ti preoccupare Cosa c'è? Oh Chi ce l'ha messo questo? Che? È il liquido per lenti È fondamentale per fare lo slime Oh no 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 Questo ne si beve E ne si mette nei capelli Pazza E acqua benedetta Ma che acqua benedetta? Di che cosa? Ma benedetta da chi? Ma basta cazzo Col potere con ferito Grazie Va bene grazie per la benedizione Io a questo punto La lascio lì riposare No 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 Non devo riposare Devo lavorare Oh Hai dimenticato questo Prendila No 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 Non ti preoccupare È tutto tuo Ciao Ok Ok ci siamo È il momento di fare lo slime Ora o mai più Mettiamo prima la colla Aggiungiamo il bicarbonato Il liquido per lenti E iniziamo a mescolare Speriamo che si formi Sì Ecco qui Il nostro slime Si è formato perfettamente E adesso Andiamo a scoprire Se Sofì è tornata normale Mamma pazza Quale mamma pazza? Hai visto il mio telefono? Non lo trovo Dove l'ho lasciato? Cos'è tutta questa confusione però? Lui Ma quello è yogurt Se mangiano yogurt Poi devi buttarlo Se è finito E se non è finito Lo devi rimettere in frigo Guarda È intatto Mettilo subito in frigo Quindi ti senti bene? È tutto normale? Anzi Adesso te lo mangi lo yogurt Qui non si spreca niente Mangia Non mi va tanto di mangiare Ok Sofì non è più mamma pazza Ma di sicuro Mi devo finire di mangiare questo yogurt Non ne posso più Mamma pazza In che senso? Niente Lascia perdere Ok Ci risiamo Ma adesso team trote Se ancora non l'avete fatto Correte a vedere il video di ieri Cliccando qui davanti a me Mentre per vedere un altro video divertentissimo Cliccate qui davanti a me Speriamo anche oggi di essere riusciti A strappare un sorriso Noi vi mandiamo un bacio Un abbraccio Ci vediamo domani Con unissima avventura Ciao Ciao